Papà, non vi fate battere! Insomma ragazzi, ci siamo appena finiti di scaldare, siamo carichissime, siete carichi? Sì! Abbiamo un circuito un po' di potenziamento, un po' come si dice di coordinazione, ma soprattutto di fantasia e motivazione, muoviamoci la parola d'ordine! Il nostro workout si compone di 5 esercizi, dureranno 15 secondi, quanti ci rifaremo? Lo decidete voi! Lo decidete voi! Insomma 5 esercizi, un po' sulla coordinazione, un po' sul potenziamento, perché questi atleti già sono fortissimi e soprattutto la cosa più bella qual è? Che anni! Con il circuito faremo un balletto! Ok, ogni giro chiuderemo sempre con un balletto, almeno 30 secondi, così per smaltire un pochettino la fatica. Decidete voi la vostra musica preferita! Decidete voi la vostra musica preferita, ok? Noi abbiamo deciso la nostra, adesso però prepariamoci, soprattutto insieme a casa! Allora 5, 4, 3, 2, 1, via! Vai con i saltelli, saltelli la corsetta, laterale, vai! 4 con me, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, isometria! Non mollate, non mollate, non incrognate! Tante miliare, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, adesso cosa mi lascio? Questo! Non mi ricordo più mai! 1, 2, 3, 4, 2, 4, 5, DJ ci sei? Scaccia! Play! Play! Play!